Musica Domenica 9 febbraio, buongiorno, ben ritrovati con l'informazione di Telemolisse. Partiamo con la politica, la battaglia per le primarie regionali del PD. Si è spostata ad Isernia, Micaela Fanelli accompagnata da Gianni Pittella e Laura Venitelli in compagnia di Danilo Leva, hanno incontrato i simpatizzanti del partito. Ma sentiamo Enzo Di Gaetano. Si è spostato a Isernia il fronte più caldo per le primarie regionali del PD di domenica prossima 16 febbraio. Entrambe le candidate hanno incontrato i simpatizzanti pentri del Partito Democratico. La Fanelli parlando di fondi europei insieme a Gianni Pittella, europarlamentare del PD. La Venitelli affrontando l'argomento caldissimo della difesa della sanità pubblica insieme a Danilo Leva. Gianni Pittella ha incontrato i sostenitori della Fanelli prima nella sede elettorale del Comitato Pro Fanelli e poi alla provincia. Per Pittella la scelta di Micaela Fanelli non è casuale. Perché lei ha tre caratteristiche. La prima è una donna europea ed europeista. C'è bisogno che questa regione e questo Partito Democratico sia europeo ed europeista. Seconda perché è una donna meridionalista, cioè capace di portare avanti una battaglia per il nostro mezzogiorno. Terza perché è una donna che decide, che ha gli attributi e che quindi di fronte alle grandi questioni che avrà il Partito Democratico avrà la capacità, la determinazione, la tenacia di assumere decisioni concrete. Fanelli dal suo canto respinge ogni tentativo di delegittimazione in quanto è arrivata nel PD solo da due anni. Ho fatto politica da quando ero piccola con la speranza del volontariato d'amministratore nei nostri comuni con una chiara provenienza di centrosinistra che da ben più anni, cinque anni fa mi sono candidata al Comune di Riccia contro la lista del PDL, ho fatto una chiara appartenenza politica ed è altrettanto forte questa appartenenza in ogni questione quotidiana. Il PD l'ho amato da quando facemmo i convintati Prodi che non era ancora nato nella sua completezza attuale e milito in questo partito attivamente da quando ho avuto l'onore di essere candidata al PD all'amministrazione provinciale di Campobasso. Sono un po' più giovane, questo mi dà qualche anno in meno di militanza ma credo che di questo non mi si possa fare sicuramente un rimprovero. E cambiamo fronte per parlare di Laura Venitelli che nella sua puntata a Iserni ha voluto incontrare i promotori del Comitato di Difesa del Veneziale andando nella sede dell'organizzazione capeggiata da Marco Condidorio. La proposta del dottor Percop è una proposta, l'ho detto, lo ribadisco con una espressione semplice, va cestinata quella proposta perché non risponde a quelli che sono gli interessi dei cittadini. Risponde invece agli interessi dei cittadini che cosa? E soprattutto alla risposta della domanda di sanità e di salute la necessità di conservare questi presidi differenziandoli perché chiaramente non possiamo, dovendo rispettare anche quelli che sono limiti di spesa, non possiamo creare dei doppioni negli ospedali differenziandole quelle che sono diverse offerte. Quello che era il piano ruta andava in questo senso ma soprattutto che cosa dava? Dava una risposta a quella che è la necessità di ridimensionare in maniera drastica e forte la sanità privata. Perché oggi dire il pubblico, ci interessa il pubblico che deve essere prevalente, non è sufficiente perché prevalente può essere 60-61%. Io invece dico che il pubblico deve avere una percentuale superiore all'80%. Ma lo scontro tra le due anime renziane nasconde nel Partito Democratico anche lo scontro in atto tra Frattura, che sostiene Raffanelli, e il resto del partito, capeggiato da Roberto Rute e Danilo Leva, che sostiene la Vennitelli. Felicissimamente se Frattura vige il congresso prende tutto, insomma, Regione e Partito Democratico, a quel punto che succede? Vedremo il giorno dopo le primarie cosa succede. Io credo che abbiamo bisogno di una guida in questo momento capace di spostare il baricentro verso il centro-sinistra. Ho visto in questi mesi troppe cose che con il centro-sinistra c'entrano poco, quindi serve una scossa, uno scatto da questo punto di vista. Siamo in campo a sostegno di Laura per questo motivo e per queste ragioni. Arrivano i primi risultati positivi dal servizio di raccolta differenziata porta a porta attuato a Campobasso su circa 900 utenze a 4 mesi di distanza. Dichiarato l'assessore comunale Cefaratti, abbiamo raggiunto il primo significativo traguardo, l'incremento del 3% di differenziata, passando dal 12% prima dell'attivazione del servizio a 15% nel mese di gennaio 2014. Piccoli ma significativi passi nella giusta direzione, ha aggiunto con la certezza che la città di Campobasso si incamminerà definitivamente lungo la strada di una corretta gestione del territorio e dell'ambiente. I giovani e la donazione del sangue al centro del convegno interregionale dell'Avis che si è svolto a Termoli. Spazio anche alle testimonianze con la battaglia contro la malattia vinta da Laura, proprio grazie alle trasfusioni. Fabrizio Occhionero. La cultura della donazione del sangue è un qualcosa che si costruisce a piccoli passi, maturando un'importante consapevolezza, quella di poter donare oggi e di aver bisogno un domani di una fonte di vita. Da tempo l'Avis persegue questo obiettivo, coinvolgendo anche i più giovani attraverso dei gruppi di volontari ispirati dai principi dell'associazione. Salute e malattie a donare per la vita il tema del convegno interregionale promosso dai giovani Avis con gli iscritti di Lazio, Abruzzo, Puglia e Campania per un confronto sulle tematiche della solidarietà e della donazione. Donare sangue è un modo per garantire la salute e il benessere di coloro che sono malati e hanno bisogno. Noi doniamo sangue, io come tutti i giovani e coloro che partecipano al gruppo Avis di Termoli perché vogliamo garantire la salute a tutti coloro che ne hanno bisogno. All'evento sono intervenuti i responsabili dell'Avis, soci, esperti e numerosi studenti, occasione per ascoltare anche delle significative esperienze di vita, come la storia di Laura. Io in tutto il percorso della malattia ho ricevuto circa 700 sacche di sangue ed in più ho fatto un trapianto di midollo osseo quindi un ragazzo canadese di 27 anni mi ha donato una parte di sé per poter far continuare a vivere anche me. Quindi io dico una frase molto semplice che però fa riflettere e rifletteteci ed è questa chi ha bisogno non ha scelta chi può aiutarlo sì. Ed è tutto per l'informazione passiamo ad esaminare le prime pagine dei quotidiani di oggi. Con Gianfrancesco Iacaruzzi in regia andiamo ad esaminare il giornale del Molise.it Masterplan di Campobasso spunta il vincolo per le due torri il sindaco a frattura non rilasceremo autorizzazioni il Masterplan di Campobasso sia il progetto per la realizzazione della sede unica della regione con la riqualificazione di una parte del centro della città continua a riservare sorprese. Un progetto che era partito dall'ex presidente della giunta regionale Michele Iorio che dopo qualche anno di oblio è stato tirato fuori dal cassetto e rispolverato dall'attuale governatore Paolo Frattura. Poi ancora sanità i medici chiedono alla politica più fatti e meno parole. Benitelli lancia la candidatura a riportare l'attenzione politica in basso Molise e poi Monsignor De Luca ecco quello che penso del progetto Gran Manze. Le altre notizie Campobasso differenziata arrivano i primi risultati positivi e poi per la cronaca spacciavano i ruini e cocaina due ragazzi di Agnone arrestati dai carabinieri. Vediamo l'apertura di primo piano Molise primaria del PD ultima settimana di fuoco per la Fanelli arriva l'eurodeputato Pittella mentre la Venitelli incontra il comitato pro veneziale. Ieri sera alle 20 presentate le liste collegate alle due candidate in corsa per la segreteria in lizza molti amministratori locali. Il sondaggio dell'ordine dei medici i molisani chiedono una sanità di qualità basta con le lunghe attese i cittadini vogliono risposte immediate. A Termoli il monito di Don Luigi Ciotti una chiesa povera il fondatore di Libera punta sulla centralità dell'uomo. Vediamo in alto Campobasso aveva in casa un emporio della droga in manette il 21enne pizzicato dai militari dell'arma e ad Agnone cocaina ed eroina in auto arrestati due ragazzi lo stupefacente era pronto per lo spaccio. A Venafro speronano la gazzella dei carabinieri braccata la banda dell'Audi Grigia tanti colpi messi a segno nella valle del Volturno. Lo sport Boiano 0 a 5 Caggiano rischia Lisernia ospite il Celano Termoli e Dagnone nelle Marche eccellenze i lupi di Lagano a Montacqui la Benafro pari e tabù interno la capolista si impone per 6 ad 1 la LIFE fa 0 a 0 al Delprete la gioventù da una cala il Tris con il Rocca ravindo la promozione Acli e Vinchiaturo non si fanno male il Toro rifiata pallacanestro Sardella scontro salvezza con il CUS Taranto BCC a tappeto il quotidiano della Molise Cardarelli ospedale unico regionale frattura dell'inia il futuro del nostro comio l'obiettivo è assorbire la ex cattolica il governatore ha annunciato anche un nuovo protocollo d'intesa con la facoltà di medicina poi primarie del PD Fanelli e Venitelli scoprono le carte i nominativi presentati ieri alla commissione elettorale Veneziale Carriero e Neri con l'onorevole Termolese con la Giovanni in campo con una lista civica e il centrodestra allargato dialoga con la Izzi stiamo parlando di Campobasso verso le comunali è sempre a Campobasso l'inchiesta lottizzazione Parco De Pini varianti e privilegi la cronaca a Campobasso e a Dagnone Mariuana Eroine e Coca i carabinieri chiudono l'emporio con tre arresti lo sport serie di il Boiano dura solo un tempo poi becca cinque gol e a Termoli a Fano per il rilancio Esernia Celano e Lagnone va ad Ancona Lupi trentesima vittoria di fila dominio Campobasso sei gol e la Corradino e la Corradino festeggia il rientro con la rete del 5 ad 1 e per l'eccellenza Tris GC Dauna il Venafro impatta contro la LIFE il tempo Campobasso Biocom Frattura vuole i danni quei soldi sono solo un anticipo per la costruzione dell'impianto a Biomasse l'ex governatore Iorio ascoltato dalla Digos sull'iter del finanziamento il racconto di Di Brino polemiche ricorsi e lotte politiche contro la centrale nasce il liceo sportivo scuola a misura di disabile poi porta a porta nei negozi aumenta la differenziata a Campobasso Agnone spacciavano nelle scuole arrestati due giovani sorpresi con eroina e cocaina che avrebbero venduto agli studenti dell'Alto Molise vediamo gli altri quotidiani regionali la gazzetta della Molise l'apertura Frattura si nasconde il suo cognome si alterna tra regione e questura ma se il governatore finisce nel mirino della magistratura è colpa della stampa pagata da Iorio l'Oscar del giorno la gazzetta lo consegna al fatto quotidiano perché per il motivo fa ulteriore chiarezza su quanto sta accadendo alla regione Molise il tapiro del giorno a Paolo Spina altre notizie dalla regione Campobasso la morte annunciata dell'ente fiera sanità registro tumori dopo due anni ancora non parte la struttura e poi basso Molise Grammanze gli strani affari della chiesa e poi l'editoriale di Tommaso di Domenico il pizzino ovvero la fatva in salsa molisana il sannio quotidiano la notizia che riguarda il Molise sostegno di Pittella a Fanelli ieri pomeriggio l'incontro nella sala gialla della provincia Unione Europea partito e sviluppo gli argomenti più dibattuti in vista delle primarie il vicepresidente del Parlamento Europeo ha fatto tappa nel capoluogo molisano Passiamo ai quotidiani nazionali il Corriere della Sera Letta sfida Renzi sul governo piano crescita e tre nuovi ministri gelo del leader PD il premier subito al collo il sindaco io a Palazzo Chigi tante pressioni ma non chiedo nulla la scelta di Ratzinger i testimoni di un addio il Papa lo aveva stabilito da mesi ecco chi lo sapeva il ruolo del fratello il racconto delle 24 ore prima dell'annuncio Bonino indignata per i Marò l'Italia allo scontro con l'India la Corte Suprema si esprimerà sull'accusa di terrorismo Lasciamo il Corriere della Sera andiamo a vedere l'apertura della Repubblica Renzi tre strade per Palazzo Chigi chi vuole un altro governo lo dica Letta al colle per sbloccare lo stallo colloquio con il sindaco Fassina svolta o tocca a Matteo Berlusconi show l'euromoneta estraniera grillo in manette sul web mi fido dei giudici la figlia del re di Spagna accusata di frode l'infanta sei ore alla sbarra la Spagna processa la monarchia poi sesso divorzio e preti sposati i cattolici bocciano la chiesa sondaggio mondiale alla vigilia del sinodo Francesco spopola 90% con lui lasciamo la repubblica la gazzetta del mezzogiorno Letta va al colle Renzi era ora il premier domani o martedì da Napolitano poi il patto di programma il segretario del PD lo punzecchia il cavaliere alle elezioni o la va o la spacca il fatto quotidiano Letta Renzi 22 ore al governo per vivere o morire tanto durerà da martedì il dibattito alla camera sulla legge elettorale vero spartiacque per la vita dell'esecutivo il colle prova ad allungarla ricordando gli otto decreti che scadono tra febbraio e marzo poi il CSM è stato napolitano a voler processare di Matteo fu Donato Marra cioè il braccio destro del presidente a denunciare al PG della Cassazione il PM della trattativa per un'intervista sulle telefonate con Mancino passiamo ora all'unità Letta si cambia Renzi risponde era ora il premier annuncia da soci al Quirinale presenterò programme modifiche della squadra il leader di Insartegna con Pigliaro il rimpasto mi fa venire le bolle regole ma è più da soli la lega con gli immigrati in Svizzera oggi il referendum contro l'immigrazione di massa voluto dal partito della destra elvetica e dalla lega dei ticinesi il carroccio difende i frontalieri italiani e litiga con gli ex alleati xenofobi passiamo ora a libero torno e rottamo tutti riecco Silvio finalmente Berlusconi su di giri parla per due ore di fila ribalto Forza Italia e vivrò 120 anni a galvanizzarlo i sondaggi l'asse con Renzi e il ritrovato feeling con gli imprenditori le manette per grillo sono un trofeo beppe sfida giudici e PD avvenire parolin con vangelo diplomazia di pace il segretario di stato vaticano è lo stile del papa prima intervista al più stretto collaboratore di Bergoglio la curia sia strumento più snello batilix stagione dolorosissima scossa di letta così si riparte Renzi era ora il premier salirà presto al Quirinale poi droghe leggere legalizzate un favore ai clan il procuratore antimafia Roberti e poi un anno fa Benedetto stupì il mondo parla Cotier le notizie economiche il sole 24 ore visco ripresa incerta tagliare il cuneo fiscale il governatore apre alla bad bank serve più credito Banca Italia più riforme meno tasse su imprese e lavoro saccomanni la finanza aiuti l'economia letta vedrò Napolitano poi patto di programma Renzi benissimo era ora il va interesse di Arcelot Pittal il big siderurgico franco indiano apre il dossier per entrare nel gruppo controllato dai Riva la stampa Renzi nuovo governo se lo vogliono basta dirlo Banca Italia ripresa debole abbassare le tasse sul lavoro il segretario del PD ci sono otto mesi per fare le riforme altrimenti al voto subito non temo le piazze Francia il treno dei turisti in bilico sul vuoto Alta Provenza il deragliamento dopo che un masso si è staccato dalla montagna due i morti e torniamo al touch screen il giornale Letta piange al colle governo agli sgoccioli il premier domani da napolitano per evitare il licenziamento gli industriali lo fanno fuori e Berlusconi e suoi forza che è la volta buona l'era del gossip elettronico se internet impazzisce per i ritocchi di Belen la showgirl va in tv e i fan insorgono sei bellissima perché hai deciso di rovinarti l'ultima beffa ore l'india a boicottarci Marò Novadelli chiederà dieci anni di galera per terrorismo Bonino risponde è inaccettabile niente visto ad un euro parlamentare italiano di FDI passiamo al tempo fermi tutti questa è la partita sfida capitale città si blocca tra voglia di sgambetto e sogno tricolore ore 15 ecco il derby oltraggio ai Marò rischiano dieci anni perché terroristi e poi grandi manovre Renzi spetta letta il cavaliere rilancia vinceremo da soli poi inchiesta del tempo pompieri a pezzi le rivelazioni shock sui vigili del fuoco il mattino prodi la mia staffetta non si ripeta grasso ha difeso il parlamento la compravendita di voti è un fatto gravissimo monito dell'ex premier letta rischi di più subito riforma elettorale e del senato vediamo ora l'apertura del manifesto sognando California sognando California in 30.000 sfilano nella capitale chiedendo di voltare pagina con il proibizionismo della fini giovanardi una giornata contro le narcomafie per la legalizzazione della cannabis sul nuovo modello americano in uno studio inedito di Palazzo Chigi le sconvolgenti convenienze economiche che ne otterrebbe lo Stato la gazzetta sportiva la gioia di Napoli e il pianto di Balos Edorf comincia bene subito in gol Tarab poi dominio degli uomini di Benitez rete di Inler doppietta di Elpipita sostituito Mario Scoppia in lacrime poi soci luci azzurre Zegler vede il podio e Kekostner e poi Juve Verona crocevia per lo scudetto Svaldo Scalpita il derby Garzia Punge Rechia è un Lazio Roma nervi scoperti per l'Inter Hernanes comincia con il Sassuolo Branca è divorzio e con la gazzetta sportiva si conclude il nostro appuntamento con la rassegna stampa l'informazione torna alle 14 grazie per averci seguito buona giornata e buona domenica Sassuolo Sassuolo